Ecco qua, cari amici, l'orgasmo di Marine Le Pen, e sono proprio i francesi, i francesi che hanno cognato la locuzione di petite mort, la piccola morte per l'orgasmo, la petite mort per l'orgasmo, e poi non so se a Napoli o a Palermo, ma credo a Napoli, si dice che come andare, come andare, come andare è meglio che futtiri, come andare è meglio che futtiri, futtiri, beh poi se voi lo conoscete meglio questo proverbio, scrivetemelo cari amici, ne riassunto, capito, come andare è meglio che futtiri, Marine Le Pen, vedete la Francia profonda, la profonda, la Francia profonda, si sono stufati degli extracomunitari, beh io non è che gli posso dar torto, non è che gli posso dar torto a tutti i dottori che si sono stufati degli extracomunitari, non gli posso dar torto, però devo ribadire per l'ennesima volta, l'ennesima volta, che gli extracomunitari sono venuti in occidente, perché noi occidentali ce l'avevamo tirati indietro, hanno cominciato a venire molto numerosi dal 1970 in poi, perché per esempio in Italia, ma magari pure in tutto l'Occidente, i ragazzi non volevano più fare le badanti, capito, non volevano fare le badanti, e ci sono ancora oggi le badanti dell'Ucraina, non volevano più fare le badanti, sono venute le badanti dell'Ucraina e anche della Romania che si sono sistemate, si sono pure sposate in Italia, e pure nelle spalle, in occidente, in occidente centro-ovest, gli indoeuropei, gli indoeuropei, gli italiani, non volevano più non mungere le vacche, capito, e allora sono arrivati gli indiani del subcontinente indiano, io so che io abito nella valle Padana, qua i mungitori vengono tutti dal subcontinente asiatico, capito, e pure i pomodori, pomodori, olive, olive, arance, io quando ero giovane in Italia non ce n'era neanche uno di extracomunitari ad andare a raccogliere arance, pomodori, olive, che cosa vuole che vi dica, cari amici? E vabbè, adesso diciamo così, che l'Europa è stata saturata, che c'è manodopera, manodopera extracomunitaria a buon prezzo, e adesso è arrivato il momento di dare una stretta, dare una stretta, quindi io posso pure capire l'orgasmo di Marino Le Pen, Marino Le Pen, la petite mode, dicevano gli francesi, la petite mode, è bella, Marino Le Pen, scusatemi se dico una cosa brutta, scusatemi, scusatemi, ma io, ad esempio, con tutto questo video, scusatemi tanto, cari amici, perdonatemi, io me la farebbe, io me la farebbe, capito, cari amici, io me tempi cambiano, ormai ci abbiamo manodopera extracomunitaria a supplicenza, per cui si può dare anche un giro di vite, si può dare un giro di vite, è per questo che gode, che gode, che gode Marino Le Pen, guardate qua che bella, che bella celtica, e sono celti i francesi, sono celti, erano celti, 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 cari cari, celti, celti, c'è la quercia, c'è il ramo d'oro di James Fraser, guardate che spettacolo, guardate che meraviglia, la piccola morte, l'orgasmo, guardate che orgasmo, e come andare è meglio che futtiri, cari amici, scrivetemelo voi, com'è il proverbio giusto, con le parole giuste, guardate, beh, guardate, lasciatemi concludere, io me la farebbe tutta, va bene cari amici, grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.